Oh che eleganza Che carino Benvenuti in Stylida Stories A grandissima richiesta Nuovissimi scherzi alla maestra Perché sono usciti tantissimi nuovi scherzi In più lei ha trovato un fidanzato Un fidanzato Dobbiamo rovinare i suoi appuntamenti Insomma non vedo l'ora di giocare E vedere i nuovi scherzi Perché adoro questo gioco E so che lo adorate anche voi Quindi lasciate un bel mi piace Se volete altri gameplay con Scary Teacher Mettetevi comodi Prendete i pop corn E iniziamo subito Allora Scary Teacher Sta per parare Il suo piatto speciale Con il suo fidanzato Quindi noi dobbiamo rovinarle Il piatto speciale Vediamo che dice Speriamo che non ci siano Delle altre sorprese Dei vermi Allora dobbiamo scegliere Che arma utilizzare Il gas che la fa ridere Oppure la chiave oro O l'energia che si ricarica Direi il gas che la fa ridere Gas che la fa ridere Ok allora Che cosa si sono detti Prima al telefono Scary Teacher e il suo Povero fidanzato In pratica lei ha detto Di andare da lei A cena stasera Per un appuntamento romantico Che lei cucinerà Il suo piatto speciale Ma noi dobbiamo rovinarlo E mettere i vermi dentro E glielo rovineremo Qua ha messo i lucchetti Per non farsi rovinare La serata giustamente Questo primo scherzo Lo fa Vitale Che Vitale è molto più bravo Di me a giocare a Scary Teacher E è bravissimo A fare gli scherzi Ok che cosa c'è qua Che cosa abbiamo Sì per aprire i lucchetti Ma prendiamo un po' di tutto Sì Scary Teacher ha appena detto Ai miei bellissimi capelli Tutti saranno gelosi Di miei capelli È bruttissima Ma come fa A pensare di essere così bella Mi raccomando anche voi Controllate sempre Dalla telecamera Dove sta andando Scary Teacher Si ne ha fatto una faccia strana No no Per fortuna no Siamo al piano di sopra Perché è un trucco Per riuscire a giocare bene A questo gioco E controllare le telecamere Eh sì Di Scary Teacher Così le roviniamo l'appuntamento È lì Me ne sono accorto Giusto in tempo Eccoli per me Eccoli Eccoli Attento le trappole Questa stanza è stranissima Ma questa stanza è stranissima Fa paura Ok Ok Allora adesso dobbiamo andare in cucina Sì E dovrebbe stare al piano di sotto La cucina Possiamo farcela Ho paura che sia qui vicino Non riesco a capire Dove sono accorto Dove sono accorto Forse è un passaggio segreto Questo Aiuto L'ansia Sì è in cucina Vedi sta assaggiando i piatti Forse è proprio questa la porta Ok allora Non possiamo andare adesso in cucina Perché lei ha appena Girato il suo piatto E ha detto che è il miglior chef del mondo Ok sì E questa è la cucina Vai Dove è lei? No no Lei è andata in cavolo Sì sì Vedi da qua E adesso dobbiamo scappare No 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 Qua c'è una trappola C'è una trappola E da dove scappa adesso Non lo so Aiuto Entra qua Oh paura che ci sia lei di qua Sì Eccolo sta arrivando Fammi nascondere Entra E dove andiamo qui Ok Stiamo nello stantinato E lei sta andando in cucina Vediamo Vediamo la sua reazione Io È arrivato il fidazzato È arrivato Guarda è un specchio Ecco il piatto con i vermi Vedi Vedi Gliel'ho buttato in testo Poverina Passiamo ora al prossimo scherzo Prossimo scherzo Scary teacher che si chiama Misty e il fidanzato Devono insomma fare una performance di ballo Wow Che eleganza Scary teacher che ha vestito i tacchi Gli ha pestato i piedi Si sta arrabbiando e sta dicendo Il tuo stupido piede era in mezzo ai piedi Ok ora devo scegliere una di quelle abilità E scelgo il gas che fa ridere Pensi che siamo all'entrata Ok dovete però andare Guarda è una macchina del fumo Forse mi può servire Prendila prendila E poi Che cosa c'è altro vediamo Un martello Oh no guardala È già qui È fuori in giardino Aiuto Dove vado Prova a salire dalle scadole No no aspetta Forse è meglio se sono nascosta qua Vedi che si sta avvicinando Il tempo passa Ah è qui No 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 Scappa te No mi ha preso Ma perché Io perdo sempre Continua Vitale che è molto più bravo Come avete potuto vedere Scary teacher mi prende sempre Comunque c'è scritto che scary teacher Cioè la chiamano Miss T Quindi in realtà si chiama T qualcosa Ti come teacher no? Ah è vero Comunque si sta avvicinando Almeno abbiamo ancora i nostri oggetti Prova a salire da qua nella casa Ok Sì, è una scorciatoia Eh, sì, ci vuole fare Guarda la foto di Scary Teacher Lee Dove? Non l'avevo vista Non l'avevo vista Cioè, mi vuoi dire che lei ha fatto un concorso di bellezza e l'ha pure vinto? Eh sì Forse era Photoshop quella La sua camera da letto Perché è piena di scatole? Si vorrà trasferire in un'altra casa? Vediamo Attenzione alle trappole Comunque, secondo me la casa di Scary Teacher è troppo grande Eh sì Delle trappole per topi C'è scritto, metti le trappole per topi nel dance floor Che si dice in italiano nel Sala da ballo, tipo Sì, sala da ballo Questa porta è chiusa Da dove posso scappare? Ho paura che Ho paura che lei stia venendo proprio qui Si è seduta No, mi ha fatto Ok, per fortuna ce l'ho ancora in mano le trappole Ok, esci subito E ci proviamo Ha messo una trappola Attento, attento Ok, ok, ok Ora dobbiamo trovare solo il posto in cui balleranno Scary Teacher e il povero fidanzato Qua mi sa che è chiuso però No, ma è un labirinto anche il giardino Questa potrebbe essere una potenziale trappola se non stiamo attenti Ha pure una piscina enorme Wow Wow Eccolo Eccolo L'abbiamo trovato Ok, metti subito le trappole Sì, sì Trappole messe Allontanati Ok Ah, dice anche di mettere la macchina per il fumo che abbiamo preso prima Ok 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 Ora Che cosa devi fare? Forse devi azionare la musica Azioniamo la musica Clicca, dice di inviare un messaggio al fidanzato C'è scritto facciamo un altro, insomma era troppo veloce Comunque era qualcosa tipo balliamo nuovamente assieme Quindi abbiamo inviato un messaggio da parte nostra Cioè da parte di Scary Teacher e il fidanzato Bisogna scappare adesso Scappiamo Scappa, scappa, scappa Sta scappando Sta arrivando Non vado l'ora di vedere come finire Spero che esca dalla cucina e non da qui Io intanto me la do a gambe Aveva paura che esca qui davanti No, sta andando dalla cucina Per fortuna Ok, ok Dovrebbe essere Ok, meno male Sicuro, allora Io comunque per essere più tranquillo Sì, meglio uscire proprio dalla sua casa Anche perché si arrabbierà un sacco adesso Vediamo Vediamo che cosa succede Eccola, sta andando con molta calma Quando deve prenderci Corre veloce Corre subito Mi facciamo gli scherzi valentissima E dai che il tempo passa Ecco Ah, in mezzo al fumo Non se ne sono accorti Delle trappole Quindi Poverina Ok, prossimo scherzo Scherzo? Scary teacher è molto felice Del suo nuovo trampolino Penso che potremmo fargli un bello scherzetto Vediamo un po' Sono così contenta di andare sul trampolino oggi Con il suo fidanzato Che carini Carini Eh sì Ma soprattutto Scary teacher sta dicendo Soprattutto quanto si sta bene Senza bambini in giro Come si permette Adesso che lo facciamo uno scherzetto Il cactus Possiamo mettere il cactus nel trampolino Eh sì Poi lei ci salta sopra e farà una brutta fine Allora ce lo teniamo qui per dopo Sta guardando fuori dalla finestra Forse ci sta osservando Ci sta spiando dalla finestra E ora verrà qui No Speriamo di no dai Ok Entriamo nella casetta Dove ci sono tutti gli attrezzi Per aprire la porta Allora vediamo che possiamo prendere Possiamo prendere Allora questo per entrare dentro casa Sicuramente Le forbici Sì Possiamo tagliare il trampolino Con le forbici Secondo te Ci riusciremo Non lo so Lei si sta dirigendo fuori Attenzione Sta andando verso la porta Vabbè ma tanto noi Poi riusciamo a fare il giro dai Ha aperto la porta e uscita fuori Attenzione Qua in giro nel giardino Oh oh No Ecco il cactus che abbiamo appoggiato lì Tutto storto Ma dove riusciamo con questa Vediamo Sì Bravissimo Hai rotto il trampolino Ma così però lei se ne accorce Mi sa Dici Adesso dobbiamo scappare però Perché sta arrivando proprio qui Dobbiamo ricucirlo in qualche modo Sì Sta arrivando Attenzione Sta arrivando No È lontano dai Noi facciamo il giro da qua dietro No No Non ho capito Sta arrivando da qui Scappa Ha fatto il giro Corri 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 Non ci fermare corri Oh no Ha fatto il giro È furbissimo Scherettice Come si può correre più velocemente Non si può Non fermarti Aiuto È vicinissimo Gira 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 Che ansia Dai si stancherà Primo o poi Eh lo spero No Dai stanchati Scherettice Ruffa Vabbè tanto dovevo comunque entrare dentro casa Quindi per me È più comodo Ok Siamo quasi salvi Quasi 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 Ok forse qui non ci tocca Ok entriamo dal passaggio segreto C'è le scale Ok Sì Spero che lei non sia già salita sopra No si sta Ok No ti dico io dove sta Ok Per fortuna finalmente ha smesso di girare per la casa E si è seduta nel divano È ovviamente già arrivata qui Guarda Ovviamente cammina sopra il tavolo Nell'aria Boh Non si capisce Comunque Che cosa dobbiamo cercare qua È qualcosa per riuscire il trampolino Per cucire il trampolino Sta rendo le scale Sta rendo le scale Guarda 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 Ci sono dei fili qua Sì 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 Prendiamo Non me lo fa prendere Aspetta Proviamo Proviamo ad andare Aiuto Ho paura che sia qua vicino Dov'è? Ah Lì Scappa scappa Ti stai ricorrendo No Aiuto Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Dobbiamo scappare Semi lascare Semi lascare Oh ma non si stanca mai? Ha già messo la drappola Ovviamente Scappa Scappa No è chiusa No è chiusa Prova l'altra porta No mi ha presa Ok riprendiamo allora L'importante è che abbiamo il filo Forse però posso riuscire Sì bravissimo Ok allora Andiamo al trampolino Vediamo Vediamo se ce la facciamo Aiuto Ci abbiamo poco tempo tra l'altro Pochissimo Ah pure il tempo Oh no Non mi dire che sta già uscendo Sì Purtroppo sì Ma forse ce la facciamo Dai Forse ce la facciamo Metti il filo Anche il cactus Ok Ok ha messo il cactus Ha ricucito il trampolino Ok devi scappare adesso Scappiamo scappiamo Devi scappare assolutamente Scappa 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 Lei sta scendendo su Non lei è in cucina forse È in cucina Ok Sì allora mi devo scappare Devo proprio scappare da qui Perché sennò esce proprio qua Di fronte a me Dai speriamo che ce la facciamo Eccola Sta arrivando qua Da che parte sta arrivando Sta andando verso la piscina Verso il trampolino Lo vedi il trampolino è lì all'altro Ok 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 Allora forse non ci vede qua Vediamo come reagisce Io sono troppo curiosa di vedere la reazione Eccolo C'è il cactus sotto Oh no Continua da di là Anche a lui Mi sta togliendo tutte le spine dal sedere Bellissimo questo scherzo Bravo Fatti cinque Anche questa volta gliel'abbiamo fatta Scary teacher Scriveteci nei commenti Qual è stato il vostro scherzo preferito Per me Questo ultimo mi ha fatto ridere Anche secondo me Questo è stato il più bello Se volete che facciamo altri scherzi Con scary teacher Lasciate un bel mi piace Su questo video E ora vi lasciamo qua Quattro per se lì Su cui cliccare Per vedere i nostri altri video Cliccate su quello che preferite E buona vincione Ciao Ciao